Oggi, come non mai dall'epoca della Seconda Guerra Mondiale, i nazionalismi si sono risvegliati, i rancori tra i popoli europei si sono risvegliati, la xenofobia. I tedeschi oggi sono tornati ad essere il popolo più odiato d'Europa. Gli italiani il popolo più disprezzato. I francesi il popolo più ridicolo. Questa è una delle conseguenze di questo tipo di unione, di un'unione europea che ha messo in ginocchio le economie europee e ha privato i governi di strumenti necessari per garantire i diritti sociali ai popoli europei. Ha distrutto le democrazie, perché è vero, come dice lui, che noi siamo sovrani. Ma in realtà bisognerebbe dire che noi saremmo i sovrani se questa sovranità non fosse stata limitata, mettiamola così, limitata dai trattati europei e dal fatto che i governi nazionali europei ormai non possono fare più quasi nulla, dati i vincoli posti dall'Unione Europea. La mia tesi, dunque, che bisogna rompere l'Unione Europea, è anche basata sulla convinzione che non si può riformare. Mi è stato detto che il redattore di questa mattina ha sostenuto che si può riformare. Chi sostiene che si può riformare ritiene che sia la conseguenza di una serie di errori, l'Unione Europea sia nata da una serie di errori, e che gli errori quindi possono essere corretti, che possono essere corretti con le riforme. Io sostengo che, in realtà, chi ha determinato questo tipo di unione, questi trattati, non ha fatto nessun errore, ha fatto precisamente ciò che voleva fare. È vero che qualche errore è stato fatto, ma sono fatti di tipo folcloristico, anzi, per esempio, vi voglio raccontare una cosa che già sapete, cioè come è nata, sembra che sia nata proprio per errore, per un'alzata d'ingegno dei francesi, di Mitterrand in particolare, che mal tollerava l'egemonia del marco sull'economia europea. Già negli anni 70 si era affermata l'egemonia del marco sull'economia europea. Poi, dopo il crollo del sistema di Bretton Woods, che era un sistema che ancorava tutte le monete, al dollaro, un sistema di cambi fissi, mentre nel mondo si andava verso il sistema di cambi flessibili, in Europa si fesero diversi tentativi di ricreare un sistema di cambi fissi, almeno tra i paesi europei. Il sistema monetario europeo, il serpente monetario, questo cosa vuol dire? Vuol dire che se i cambi sono fissi tra le varie monete, la moneta più forte è detta legge. vuol dire in particolare che se la Bundesbank, per esempio, decide di alzare i tassi di interesse, tutte le altre banche centrali devono alzare i tassi di interesse, altrimenti non possono mantenere i cambi fissi. Cosa che accade precisamente all'epoca della riunificazione tedesca. Ora, i francesi, come si sa, non tollano l'egemonia di nessun paese, ma in particolar modo della Germania. Quindi si fece venire questo colpo di genio. Beh, visto che c'è una moneta che domina i mercati finanziari europei, allora che sia una moneta europea e non in marco. Sottraiamola alla Bundesbank. Facciamo una moneta unica, una banca centrale europea, almeno in questa banca centrale, le decisioni vennero prese da esponenti di tutte le banche centrali europee. E non c'è più leggemonia di un solo paese. Ovviamente la Germania all'inizio rifiutò questa proposta. Fu costretta, fu indotta ad accettarla in cambio dell'appoggio francese alla riunificazione tedesca. Ma la accettò a condizioni particolari, cioè a condizioni che si facesse come la volevano loro, i tedeschi. E quindi si fece un trattato dei maschi che configurava un'economia che era precisamente il sistema finanziario che vigeva in Germania, in particolar modo per la gestione della moneta. E guarda caso questo sistema ha creato delle condizioni economiche per aumentare l'egemonia tedesca sull'Europa, per rafforzare l'economia tedesca. Guarda caso questo sistema ha portato ad una divaricazione delle economie europee. Un'altra balla che ci avevo raccontato è che l'Unione Europea avrebbe portato alla convergenza delle economie. Le economie europee erano diverse sia in termini strutturali sia in termini di crescita, che De Pilper ha detto. Alcune erano più ricche, altre meno ricche. Quello che ci dicevano è che questo divario si sarebbe gradualmente attenuato, ridotto, e le economie europee si sarebbero... È accaduto precisamente l'opposto. Da quando c'è l'Unione Europea e la moneta unica, i paesi del nord, in particolare la Germania, sono cresciuti sistematicamente di più della media europea, i paesi del sud, in particolare l'Italia, sono cresciuti sistematicamente di meno. Quindi si capisce l'interesse della Germania ad arrivare ad un trattato come quello che poi è stato fatto. L'interesse della Francia si capisce con l'idea che i francesi, in questo caso, fanno la mosca cocchiera, cioè hanno l'impressione di essere loro a co-gestire l'Europa, almeno dal punto di vista politico. Ma non è che l'economia francese abbia avuto un grande vantaggio dall'Unione Europea. Non si capisce l'interesse di un paese come l'Italia, ad esempio. Ora, ci fu una specie di dibattito all'epoca, quando si stava discutendo, quando si stava negoziando per il trattato di Marsi. Dico una specie perché in realtà l'accesso al dibattito pubblico fu consentito soltanto a chi sosteneva la tesi che andava bene, che l'Italia doveva entrare ad ogni costo in questa Unione Europea, mentre chi sosteneva che sarebbero stati creati dei problemi per l'Italia fu messo a tacere. Io mi ricordo all'epoca fece un'intervista a Frank Hahn, un grande economista inglese che insegnava all'Università di Siena, economista liberale, non è un socialista, un comunista, un liberale, di impostazione chinesiana e lui sosteneva che l'Unione Europea, la moneta unica europea, avrebbe portato al disastro dell'economia italiana. Avrebbe portato ad un abbassamento della crescita, a un processo di graduale deindustrializzazione e all'autorizzazione di disoccupazione permanente, che è precisamente quello che è accaduto. Questo articoletto, un'intervista, io lo mandai in Genuo, che ero, al sole 24 ore, perché non l'ha anche preso in considerazione, lo mandai a Repubblica, che non l'ha neanche preso in considerazione, alla fine, sapete chi è che l'ha pubblicato? Liberazione, il giornale di rifondazione comunista. per farvi capire il livello di dibattito, cioè era evidente che l'Italia doveva entrare nell'Unione Europea. Ma perché? Per quali interessi? Beh, questo ce lo spiega molto bene il negoziatore italiano ai negoziati che avrebbero portato al Trattato di Marti, cioè Guido Carli, Guido Carli, mitico governatore della Banca d'Italia all'epoca del miracolo economico, responsabile della prima grande crisi dell'economia italiana nel 1263, crisi scatenata volutamente da lui in risposta agli aumenti salariali che c'erano stati in precedenza, poi torneremo anche su questo, e lui nelle sue memorie ci dice precisamente questo, parole testuali, l'Unione Europea implica la concezione dello Stato minimo, l'abbandono dell'economia mista, mista vuol dire privato e pubblico, l'abbandono della programmazione economica, una redistribuzione delle responsabilità che restringa il potere delle assemblee parlamentari e aumenti quello dei governi, l'autonomia impositiva degli enti locali, il ripudio del principio della gratuità diffusa con la conseguente riforma della sanità del sistema previdenziale, dell'economia, siamo negli anni 90, l'abolizione della scala mobile, la riduzione della presenza dello Stato nel sistema del credito e dell'industria, l'abbandono di comportamenti inflazionistici non soltanto da parte dei lavoratori, ma anche da parte dei produttori di servizi, cioè lo Stato, l'abolizione delle normative che stabiliscono prezzi amministrati, per esempio le bollette della luce, del gas, eccetera, e tariffe, in una parola un nuovo patto tra Stati e cittadini a favore di quest'ultimi, secondo lui. Quindi l'Unione Europea è stata fatta precisamente per raggiungere questi obiettivi e l'interesse dell'Italia era di ottenere questi risultati. Un po' di anni dopo uscì un'intervista ormai l'Unione Europea era entrata in vigore e uscì un'intervista di Romano Prodi era al governo, governava lui, fece un'intervista a Repubblica in cui riferì che aveva parlato con Margaret Thatcher e lei gli avrebbe detto ah, adesso ho capito perché l'Italia è voluta entrare in un'Unione Europea perché così potete fare in Italia quello che io ho fatto in Gran Bretagna ma con la scusa che ve lo impone l'Europa e lui lo disse con un certo orgoglio perché in effetti era proprio così allora quando si parla di interessi è sbagliato dire che interessi ha l'Italia bisognerebbe dire gli interessi di quali italiani sono soddisfatti dai trattati di costituzione e di funzionamento dell'Unione Europea certamente il popolo italiano non ha avuto nessun vantaggio lui ci ha riportato alcuni dati la povertà assoluta è aumentata la povertà relativa è aumentata la disoccupazione è aumentata l'inoccupazione è aumentata noi abbiamo 5 milioni di italiani che sono emigrati che lavorano in Germania e in genere sono gente con una laurea un diploma gente qualificata che lavorano in Germania in Gran Bretagna in Francia eccetera queste sono le conseguenze dell'Unione Europea sull'Italia sull'economia italiana direi sulla democrazia e sui diritti sociali garantiti dalla Costituzione questo è il punto su cui vorrei richiamare l'attenzione per quanto riguarda la democrazia io credo che non ci sia bisogno di spendere molte parole per capire che la democrazia ormai è una parola vuota in Italia non perché le forme non siano rispettate andiamo ancora a votare c'è ancora un governo che deve chiedere la fiducia al Parlamento le forme sono ancora tutte rispettate il punto è che non siamo più sovrani nel senso di cui parlava lui nel senso che il governo non può più fare anche volendo non può più fare ciò che vorrebbero i sovrani cioè i cittadini perché le scelte del governo le scelte politiche del governo sono vincolate dall'Unione Europea e dall'Unione economica e monetaria questa Unione ha privato il governo e i governi nazionali degli strumenti per decidere per prendere decisioni volute dal popolo sovrano e in questo senso ha realizzato quell'obiettivo di cui parlava Carli cioè lo stato minimo è uno stato minimo perché se voi ci pensate bene in realtà il governo può soltanto decidere dove tagliare le spese o dove aumentare le tasse non può decidere di fare le politiche che suggeriva lui perché sono proibite sono proibite e ora vorrei soffermarmi su questa cosa qua intanto vorrei ricamare il concetto di diritti sociali lui ne ha accennato i diritti sociali sono dei diritti che la Costituzione attribuisce a tutti i cittadini la Costituzione italiana individua alcuni di questi diritti fondamentali il diritto al lavoro il diritto alla salute il diritto allo studio il diritto alla previdenza ora quando una Costituzione stabilisce dei diritti deve anche individuare e normalmente individua qual è il soggetto quali sono le istituzioni che devono creare le condizioni affinché i cittadini godano possano godere di questi diritti e ovviamente il soggetto è lo Stato questo spiega perché in Italia ci sono state delle riforme negli anni 60 e soprattutto negli anni 70 volte a garantire il godimento di questi diritti il servizio sanitario nazionale per esempio la scuola pubblica l'università gratuita con i presalari la previdenza alla portata di tutti la piena occupazione perché se esiste un diritto al lavoro allora lo Stato deve fare in modo che ci sia piena occupazione nessuno di questi risultati è ormai più accessibile la piena occupazione figuriamoci neanche a pensarci la sanità sappiamo che da tempo sta attraversando un processo di graduale privatizzazione di attribuzione delle spese ai cittadini ai malati piuttosto che allo Stato la previdenza c'è stata la riforma Fornero insomma tutti questi diritti sociali per essere goduti richiedono delle politiche economiche e normalmente le politiche economiche di esposizione di un governo sono quattro sono fondamentalmente quattro politiche il governo avanza con quattro gambe c'è la politica fiscale la politica monetaria la politica commerciale e la politica industriale vi spiego brevemente in cosa consistono per farvi capire che sono tutte quattro proibite dall'Unione europea la politica fiscale consiste nella manovra della spesa pubblica e delle tasse tradizionalmente una politica fiscale espansiva prevedeva un aumento della spesa pubblica e o una riduzione delle tasse o anche aumento delle tasse con aumento della spesa pubblica per esempio per costruire strade ma anche ospedali anche scuole eccetera poteva creare un deficit certo se la spesa pubblica aumenta più delle tasse si crea un deficit pubblico ma un deficit non era un problema non era un problema perché il governo aveva la sovranità monetaria quindi la seconda gamba politica monetaria cos'è la politica monetaria? la politica monetaria è la politica la manovra del tasso di interesse e dell'offerta di moneta che viene fatta questa manovra viene fatta dalla banca centrale la banca d'Italia ora nell'epoca di Bretton Woods negli anni 50 60 70 tutti i paesi capitalistici avanzati facevano politiche fiscali espansive per raggiungere la piena occupazione e infatti alla fine degli anni 60 in quasi tutta Europa c'era la piena occupazione e usano la politica monetaria per sostenere le politiche fiscali cosa vuol dire usare la politica monetaria per sostenere le politiche fiscali vuol dire che se il governo si indebita perché sta spendendo più di quanto in cassa con le tasse emette debito pubblico questo debito pubblico lo può rivendere alla banca centrale per esempio lo può vendere sul mercato lo possono acquistare i cittadini lo possono acquistare le banche lo possono anche acquistare speculatori e investitori stranieri e il governo pagano interesse sul debito pubblico normalmente l'interesse è definito è determinato sul mercato dei finanziari dalla domanda e dall'offerta di titoli del debito pubblico però se il governo controlla la banca centrale cioè controlla l'offerta di moneta il tasso di interesse sul suo debito lo decide il governo perché perché offre sul mercato tutti i titoli che il mercato domanda quelli che il mercato non assorbe li vende alla banca centrale al tasso di interesse deciso dal governo di fatto il governo si sta finanziando creando moneta e questo non è mai stato considerato un problema fino diciamo agli anni 80 poi vedremo anche perché poi negli anni 80 le cose cambiano il debito pubblico può aumentare ma anche questo non è un problema sapete che il Giappone ha un rapporto debito PIL di oltre il 250% in Italia siamo al 130% considerando che l'economia giapponese è grosso modo il doppio di quelli italiani il PIL immaginate che livello di debito pubblico spaventoso c'è in Giappone eppure questo non è un problema non è un problema per il governo nessuno ha mai messo in dubbio la capacità del governo giapponese di ripagare il proprio debito perché perché la banca centrale del Giappone fa una politica che diciamo che sostiene le politiche fiscali del governo non è indipendente la banca centrale non è indipendente dal governo e quindi il governo non può andare fallito questo è il punto cruciale la banca centrale svolge la funzione di prestatore di ultima istanza per il governo perciò il governo non può andare fallito se il governo non ha questa possibilità cioè se la banca centrale non ha la possibilità di finanziare i debiti pubblici come accade adesso in Europa allora i governi possono andare falliti di qui diciamo le agenzie di rating che attribuiscono il merito di credito ai vari paesi di qui il fatto per esempio che c'è uno spread sistematico tra il debito pubblico italiano e quello tedesco che mi sembra al 270 in questo momento questo spread misura la valutazione che il mercato ha che il mercato dà del rischio di fallimento del governo italiano quindi la politica monetaria può essere usata per sostenere la politica fiscale la politica fiscale deve essere fatta per garantire diritti sociali a tutti i cittadini quindi deve essere una politica di piena occupazione deve essere una politica di sostegno alla sanità pubblica alla scuola pubblica alla previdenza e una serie di altre cose che pure sono necessarie non solo la politica monetaria serve anche ad un'altra cosa perché si può creare un problema se il governo fa una politica fiscale troppo espansiva troppo tra virgolette cioè raggiunge la piena occupazione spendendo molto e abbassando le tasse o non aumentando le tasse può accadere che la bilancia commerciale vada in deficit cioè che il paese viva al di sopra delle proprie possibilità nel senso che importa più merci di quante ne esporta e questa cosa non può essere una situazione del genere non può essere mantenuta a lungo allora quando si crea una situazione del genere la banca centrale può intervenire sui mercati dei cambi svalutando la lira come l'Italia ha fatto sistematicamente in passato la svalutazione rende più competitive le merci italiane all'estero e rende più costose le merci straniere in Italia e quindi riporta la bilancia dei pagamenti e la bilancia commerciale in equilibrio oltre a questo tipo di manovra ce n'è un'altra che in grosso modo è la politica commerciale che consiste nell'alzare barriere protezionistiche nei confronti di beni considerati ingiustamente competitivi nel senso che per esempio viene praticato una forma di dumping da parte dei paesi che importano in Italia che esportano in Italia per esempio il dumping sociale che consiste nel fatto che in Cina o in Polonia le merci vengono prodotte con salari estremamente molto più bassi di quelli italiani allora in quel caso potrebbe essere sensato alzare barriere protezionistiche per difendere gli lavoratori italiani da questo tipo di concorrenza sleare c'è il dumping ambientale e questo per esempio in Cina si fa sistematicamente cioè le norme devono essere rispettate dalle imprese le norme per la protezione ambientale sono più deboli e quindi i costi di produzione sono più bassi c'è il dumping fiscale e cioè i governi abbassano le tasse per le imprese in modo da rendere le loro merci più coppie quindi la politica commerciale può servire a un governo in questo caso all'Italia per difendere la propria economia da comportamenti diciamo concorrenza sleale da parte di altri paesi si può fare sia con i dazi sia con barriere non tariffarie cioè con dei regolamenti sia con sussidi alle imprese che esportano infine c'è la politica industriale la politica industriale consiste nell'orientare i finanziamenti e gli investimenti nei settori che il governo ritiene più opportuni questo tipo di politica è stato fatto sistematicamente in Italia all'epoca del miracolo economico ed è servito a costruire l'industria italiana in particolar modo a superare certi divari regionali è servito proprio a creare delle industrie che prima non esistevano sia attraverso il finanziamento a investimenti privati ma sia soprattutto attraverso il finanziamento a imprese pubbliche esisteva l'impresa pubblica esisteva addirittura un ministero delle partecipazioni statali che era un ministero che controllava le partecipazioni del governo nelle imprese e c'era quindi un settore consistente dell'economia che era di proprietà pubblica non soltanto le banche le grandi banche di interesse nazionale che erano controllate dal governo ma anche le industrie e il governo quindi usava il controllo delle imprese il controllo degli investimenti il controllo dei finanziamenti degli investimenti per indirizzare gli investimenti nei settori che riteneva più opportuni per lo sviluppo economico creando nuove industrie cercando di superare i divari regionali questa cosa sarebbe molto importante oggi perché sappiamo che i divari regionali in Italia si sono accentuati nord e sud e sappiamo anche che c'è una serie di investimenti che andrebbero fatti ad esempio nel settore dell'energia delle energie alternative da fonte non fossile che richiedono un intervento pubblico questa è la politica industriale beh questo tipo di politica non può essere fatto questi quattro tipi di politica non possono essere fatti perché sono tutti proibiti dall'Unione Europea politica fiscale perché tanto c'è il vincolo del 3% a rapporto deficit-peel poi questo vincolo è stato reso ancora più stringente con il patto di stabilità e adesso sappiamo che il governo attuale è dovuto contrattare con la Commissione Europea per avere un rapporto deficit-peel del 2,1% cioè in altri termini le politiche fiscali possono essere soltanto restrittive non possono essere espansive e se sono restrittive il governo deve decidere soltanto dove tagliare e ogni volta che decidi fare una cosa che potrebbe essere utile per la collettività si fa subito la domanda ma dove trovi i soldi? il reddito di cittadinanza la prima critica che è stata fatta ma dove trovi i soldi? ed è una critica che ha senso visto che c'è un vincolo molto stretto quindi la politica fiscale non può essere fatta la politica monetaria ancora meno perché? perché è completamente sottratta al governo la fa la Banca Centrale Europea la quale Banca Centrale Europea badate bene è un'istituzione che fa politica monetaria quindi una politica che incide sostanzialmente nella vita dei cittadini europei che non rende conto a nessuna istanza democratica né al Parlamento Europeo né alla Commissione Europea né ai governi dei paesi europei è un'istituzione puramente burocratica che è regolata è governata da un regolamento che gli pone come obiettivo il controllo dell'inflazione guardate le altre banche centrali quelle dei grandi paesi la Federal Reserve Americana la Banca Centrale Giapponese quella della Gran Bretagna eccetera hanno come obiettivo sì l'inflazione ma anche la piena occupazione questo qua no in Europa non si può fare non è ammesso la Banca Centrale Europea quindi non può porsi l'obiettivo di sostenere i governi che fanno politica di piena occupazione e come si è stato ricordato da lui non può neanche finanziare i governi quindi non solo la politica fiscale è proibita la politica monetaria è impossibile la politica commerciale è proibita perché è lesiva del funzionamento del mercato della concorrenza i dazi non sono ammessi né le barriere non tarifarie non sarebbero ammessi a livello globale anche se sappiamo che dalla crisi del 2008 in poi i vari governi sono tornati a fare politiche commerciali di tipo difensivo o anche offensivo con Trump però all'interno dell'Europa non è possibile non è ammesso che l'Italia innalzi barriere protezionistiche nei confronti delle automobili tedesche ad esempio la politica del tasso di cambio è assolutamente neanche definibile perché non c'è più un tasso di cambio non c'è più un rapporto tra lire e marco c'è un'unica moneta le politiche industriali sono proibite perché ledono il funzionamento della concorrenza di mercato quindi lo Stato deve ritirarsi per quanto possibile dall'industria non può dare sussidi alle imprese non può fare investimenti volti ad esempio a raggiungere degli obiettivi sociali come per esempio il divario tra nord e sud quindi tutte e quattro queste politiche sono rese impossibili dall'Unione Europea diciamo e il governo italiano è un animale che ha quattro zampe amputate quando dicevo che non c'è più democrazia intendevo che sto qua anche se le forme sono rispettate noi sovrani non possiamo più decidere nulla parlate alle ultime elezioni sono andate al potere sembrava una cosa interessante quello che è accaduto alle ultime elezioni hanno vinto due partiti che erano abbastanza critici nei confronti di quel sistema uno di destra uno di non so se di sinistra o quello che è quello che è quindi sembrava che il popolo fosse tornato sovrano va bene via Berlusconi via Renzi adesso andiamo su Salvini e Di Maio loro hanno le idee chiare noi abbiamo dato il mandato vediamo che cosa riescono a fare cosa sono riusciti a fare assolutamente niente la prima cosa che hanno fatto sono andati a litigare con la Commissione Europea e alla fine hanno accettato le condizioni della Commissione Europea sul deficit di bilancio e adesso stanno a litigare perché vogliono fare il reddito di cittadinanza ma dove trovi i soldi il solito problema qual è il tasso di crescita dell'economia italiana lo sapete 0 0,1 che vuol dire cioè loro dicono vabbè non è colpa nostra è colpa dei governi passati ma vabbè ormai è passato più è passato un anno non è tanto colpa dei governi passati perché un governo capace di governare in un anno riesce a fare qualche cosa riesce a produrre qualche risultato ma non sono riuscito a fare niente perché? perché stanno rispettando i vincoli per questo io dico ribadisco la mia tesi tutte le belle cose di cui ci ha parlato lui si possono fare soltanto a condizione di rompere l'Unione Europea vorrei dire anche un'altra cosa per metterla anche in termini se vogliamo nazionalistici alcuni paesi sono svantaggiati da queste più di altri l'Italia per esempio la Grecia il Portogallo altri paesi hanno invece un vantaggio la Germania la Germania ha un grosso vantaggio qual è il principale vantaggio della Germania? il principale vantaggio è che gli altri paesi non possono svalutare nei confronti del Marco perché non esiste più il Marco e la Lira quindi l'economia tedesca gode di una moneta che è sistematicamente sottovalutata quindi hanno un vantaggio competitivo altri paesi come l'Italia hanno o la Francia anche o la Grecia hanno una moneta che è sistematicamente sopravvalutata e questo è uno svantaggio competitivo quindi la Germania ha un vantaggio dall'Unione Europea dall'Unione economica e monetaria la Germania ha anche fatto altre cose che gli danno dei vantaggi sostanziali come sapete l'industria tedesca è basata su imprese di grosse dimensioni medie grosse dimensioni a differenza di quella italiana che invece è prevalentemente basata su imprese piccole medie imprese di grosse dimensioni possono fare e fanno normalmente investimenti di ricerca e sviluppo quindi godono di una certa dinamica della produttività dell'innovazione che gli dà un vantaggio competitivo non è che cresca moltissimo la produttività in Germania però cresce sistematicamente più dell'Italia più di quella italiana i salari in Germania sono più alti di quelli in Italia grossomodo i salari italiani sono il 70% di quelli tedeschi però la produttività è più alta in Germania ma soprattutto la cosa più interessante è che la Germania le imprese tedesche hanno esteso le proprie catene del valore verso paesi dell'est europeo in cui i salari sono molto più bassi oggi molti parlano della Polonia del miracolo economico della Polonia perché non facciamo come la Polonia cresce al 3-4% 5% perché l'Italia non può farlo perché non può farlo perché i salari polacchi sono il 27-30% di quelli tedeschi e il 40% di quelli italiani ha un vantaggio la Polonia ha un vantaggio competitivo connesso al costo del lavoro e quindi le imprese tedesche ma guardate anche le imprese italiane alcune imprese italiane fanno produrre semi lavorati in Polonia per non parlare di quelle che le fanno produrre in Cina e poi li reimportano e assemblano merci tedesche che esportano a costi competitivi quindi l'Unione Europea è un grosso vantaggio per l'industria tedesca e come si spiega allora la predizione dei governi tedeschi dei governi tedeschi per le politiche fiscali restrittive quella che viene chiamata austerità sapete che il deficit pubblico tedesco non è un deficit ma un surplus cioè la Germania incassa dei cittadini più di quanto spende il che vuol dire che la politica è fortemente restrittiva la politica fiscale è fortemente restrittiva come si spiega questo fatto si spiega con l'esigenza di mantenere un regime di bassa crescita dell'occupazione in Germania e nel resto d'Europa perché un sistema in cui l'occupazione cresce è un sistema in cui i salari crescono i sindacati sono forti i lavoratori ottengono aumenti salariali e l'industria perde competitività questo ci fa capire qual è l'interesse dell'Italia o meglio l'interesse di quali italiani viene favorito dell'Unione Europea chi è in Italia che ha interesse a stare in questo sistema sono le imprese le imprese perché con una disoccupazione così elevata i lavoratori accettano praticamente tutto i salari non crescono imprese esportatrici no ma anche le imprese ma anche le imprese che non esportano perché diciamo il salario normalmente è deciso nelle contrattazioni collettive anche se questa cosa con il passare del tempo si è diciamo si è articolata a livello di contrattazioni aziendali quindi c'è qualcuno che ci guadagna in questo sistema in Italia e questo ci fa capire perché è difficile se non impossibile riformare questo sistema perché i grossi interessi interessi che veramente contano non vogliono riformarlo non a meno nella direzione che a noi parerebbe più opportuna è questo il punto purtroppo io stamattina non ero presente quando è stata avanzata la tesi di una riforma ma il punto è che la riforma dell'Unione Europea può essere fatta soltanto in peggio in peggioramento possono fare l'esercito europeo o l'Europa a due velocità ma una riforma che metta i governi in condizione di fare ciò che vogliono i sovrani questa non la faranno mai non soltanto perché non accetta la Germania ma perché non accetta neanche la Confindustria e Guido Carli è stato molto chiaro sui motivi per cui l'Italia doveva entrare quindi io dico che è meno utopistico proporre la rottura dell'Unione Europea che proporne la riforma vi può sembrare strano diciamo in che mondo vivi eppure io sono convinto di questa cosa qua una riforma nel senso democratico nel senso sociale che noi vorremmo non è non è possibile non esistono le forze politiche e sociali per farlo ormai l'ideologia chiamiamola eurista ha impregnato tutta la comunità politica non parliamo dei giornali delle televisioni eccetera tutta dal centro-destra al centro-sinistra in Italia come in Germania quindi diciamo se un esponente della sinistra il partitino che mette insieme tutti i cocci della vecchia sinistra che prenderà l'1,5% alle prossime elezioni vuole fare la riforma beh mi sembra un po' ridicolo direte vabbè ma tu cosa proponi in alternativa chi sono io per dire che la rottura è più facile della riforma beh nessuno lo può dire in effetti quello che posso dire però è che ormai sono vent'anni che l'economia italiana si trova in stagnazione praticamente con tassi di crescita tra lo 0 e l'1% nella media se le cose vanno avanti così almeno per altri vent'anni si sarà stagnazione e io vi lascio immaginare cosa sarà l'economia italiana e la società italiana fra vent'anni è chiaro che non può durare a lungo prima o poi qualcosa dovrà accadere e cosa può accadere? Può accadere quello che forse sarebbe dovuto accadere quando hanno formato il governo Lega 5 Stelle se avessero avuto un po' più di coraggio e se avessero interpretato correttamente il mandato ricevuto dagli elettori e cioè di por fine a questo sistema badate che se il governo ha le idee chiare in questo senso il governo vuole veramente fare una cosa del genere se è determinato verrà aiutato dai mercati in che senso? perché appena i mercati si accorgono che Salvini o Di Maio vogliono portare l'Italia fuori dall'Unione Europea si scatena il putiferio a livello mondiale a livello dei mercati lo spread va alle stelle i tiri di debito pubblico vanno a picco quindi si scatena una crisi e a quel punto l'uscita diventa necessaria inevitabile non sei convinto l'unica cosa che può impedire o meglio l'unica persona che potrebbe impedirlo sarebbe Mario Draghi come ha fatto all'epoca della crisi del 2011 2013 in quell'epoca là che per salvare l'euro potrebbe intervenire nei mercati per diciamo offrendo ai mercati tutta la moneta di cui hanno bisogno per tenere bassi gli spread però una cosa del genere è funzionata una volta ma dubito che possa funzionare una seconda volta specialmente se al governo c'è qualcuno con le idee chiare c'è qualcuno che sa che bisogna arrivare al punto di rottura all'epoca in cui Draghi salvò tra virgolette l'euro al governo c'era vi ricordate chi? Monti che scatenò una crisi lui anticipando quella dei mercati scatenò una crisi proprio per tranquillizzare i mercati quindi fra Mario Monti e Mario Draghi hanno impedito che si arrivasse alla rottura però se al posto di Mario Monti ci fosse poniamo Savona butto giù un nome così o Bagnai che hanno le idee chiare su cosa fare secondo me la crisi diventa inevitabile e l'unico sbocco di una crisi del genere sarebbe la rottura l'uscita dell'Italia dall'Unione Europea attenzione dice ma come si sta dicendo che dobbiamo scatenare la crisi guardate qui l'alternativa è molto semplice su un piatto della bilancia ci sono vent'anni di stagnazione passati e vent'anni di stagnazione futuri sull'altro piatto c'è una crisi che può durare sei mesi un anno può anche essere pesante però crea le condizioni per uscire da quella stagnazione e quindi secondo me è un passaggio che meriterebbe di essere fatto questa è l'obiezione che viene fatta normalmente a chi sostiene la rottura dell'Unione Europea e l'uscita dall'Italia c'è un'altra obiezione che viene fatta e questa forse è più seria ma se l'Italia uscisse dall'Unione Europea unilateralmente cosa potrebbe fare da sola potrebbe farcela ripendersi da sola questa è un'obiezione che ha che ha senso ha senso perché e la storia sta a dimostrare che potrebbe aver senso una cosa del genere c'è l'esempio del Giappone il Giappone ha avuto 20 anni di stagnazione non perché stava nell'euro ma per altri motivi poi un po' di anni fa andò al potere il partito liberale guidato da Abe che fece una politica keynesiana fortemente espansiva per rilanciare l'economia giapponese e cioè politiche fiscali espansive accompagnate da politiche commerciali aggressive quindi svalutazione dello yen quello che dovrebbe fare un governo keynesiano che vuole rilanciare l'economia qual è stato il risultato il risultato è che il tasso di crescita medio sull'arco di 10 anni dell'economia del PIL giapponese è passato dal 0 0,05 al 0,51 che non è un grande successo non sarebbe un grande successo specialmente per un'economia come quella italiana che ha da recuperare 20 anni di stagnazione che ha una disoccupazione spaventosa molto più alta di quelle che ci dicono i dati ufficiali perché oltre ai disoccupati ci sono gli inoccupati di cui anche lui ci ha parlato cioè quelli che ormai il lavoro neanche lo cercano più e ci sono tutti i giovani che vanno a cercare lavoro all'estero per non parlare di quelli che fanno lavori sottopagati part time precari super precari eccetera eccetera per recuperare questa situazione l'Italia avrebbe bisogno di un a meno un decennio di crescita al 3-4% può farcela da sola? beh io non sono in grado di dare una risposta a questa domanda però posso capire i dubbi di quelli che sollevano questo problema prendiamo l'esempio con il Giappone se è così allora è problematico vi ho già detto che il modello polacco non può essere eseguito perché bisognerebbe abbassare i salari al 40% di quello che sono adesso questo non è proprio materialmente impossibile ci sarebbe un altro modello quello della Corea del Sud la Corea del Sud è un paese industrializzato molto avanzato che ha un tasso di crescita decoroso 2,5-3% medio che per l'Italia sarebbe l'ideale 15-20 anni di crescita dal 2,5-3% siamo fuori dall'estagnazione il problema è che l'economia italiana è molto diversa da quella coreana l'economia coreana è basata su imprese di grandi dimensioni di dimensioni molto grandi che fanno massicci investimenti ricerca e sviluppo la Corea del Sud è il paese che come rapporto tra investimenti ricerca e sviluppo è all'avanguardia è la prima o la seconda al mondo l'Italia è uno dei paesi che ha il rapporto più basso le imprese italiane semplicemente non fanno investimenti ricerca e sviluppo perché sono di piccole dimensioni e quindi quella strada non è percorribile quella della Polonia non è percorribile perché non abbiamo i salari così bassi quella della Corea del Sud non è percorribile perché non abbiamo la produttività che cresce a ritmi così sostenuti e quindi l'unico modello resta quello del Giappone o anche della Gran Bretagna che pure non è messa molto bene quindi qual è la soluzione io adesso finora ho parlato male dell'Unione Europea ma non vorrei avervi dato l'impressione di essere un anti-europeista io sono contro l'Unione Europea contro questa Unione Europea proprio perché sono europeista perché questa Unione Europea ha affossato l'idea di Europa ha creato divari odi e rancori fra i popoli europei quindi la mia soluzione è che appena usciti dall'Unione Europea bisogna riavviare un processo di unificazione europea ma su basi completamente diverse cioè si deve creare una vera federazione europea con un vero Parlamento e con un vero governo responsabile verso il Parlamento in cui i popoli europei e i cittadini europei siano veramente sovrani quindi un governo europeo che abbia tutti quei quattro strumenti di politica monetaria di politica economica di cui ho parlato è possibile fare questo? Non lo so bisogna vedere quello che succede quello che vi posso dire è che benché abbia sostenuto l'idea dell'uscita unilaterale dell'Italia dall'Unione Europea io non sono molto favorevole non vedo diciamo di buon occhio i cosiddetti nazionalsovranisti sia di destra che di sinistra perché ci sono anche a sinistra cioè delle persone che credono che tutti i problemi si risolvano con l'uscita dell'Italia poi l'Italia fa per conto suo l'Italia è una nazione diciamo dal punto di vista economico è piccola badate lo stesso Giappone può essere considerato una nazione piccola oggi per diciamo per rendere efficace la politica economica di un governo in un contesto di globalizzazione come quello che ci sono delle dimensioni continentali almeno le dimensioni di un'economia come quella degli Stati Uniti infatti badate gli Stati Uniti crescono gli Stati Uniti sono cresciuti sistematicamente di più dell'Unione Europea della media dell'Unione Europea e attualmente stanno crescendo a ritmi molto elevati fra 2,5 e 3% che è una cosa incredibile perché accade questo? Perché un governo che ha in mano questi strumenti li può usare facendo espandere l'economia e le imprese possono espandersi all'interno dell'economia nazionale attivando economie di scala e tutti i vantaggi delle dimensioni del mercato un conto è produrre per un mercato di 50 milioni di cittadini come l'Italia un conto è produrre per un mercato di 400 500 milioni di cittadini quindi badate anche da un punto di vista strettamente economico è necessario rilanciare l'idea dell'Europa unita della federazione europea è possibile che a meno per un periodo di tempo forse anche abbastanza lungo questa federazione europea coinvolga soltanto i paesi del sud Europa non lo so non so cosa può accadere nessuno lo può prevedere ma probabilmente si potrebbe pensare ad una federazione che coinvolga diciamo le tre grandi penisole mediterrane e la Francia la Germania difficilmente ci potrebbe stare in una cosa del genere a meno inizialmente cioè per 20-30 anni però secondo me questa è la strada da percorrere quindi ricapitolando uscita unilaterale dell'Italia per innescare un processo di rottura dell'Unione Europea perché è evidente che se esce l'Italia mette in difficoltà altri paesi dell'Unione come la Francia e la Spagna la Grecia e quindi è molto probabile che l'uscita di un paese rilevante come l'Italia possa poi scatenare un processo di disgregazione io non so come si potrà arrivare all'ortura dell'Unione Europea sicuramente non si arriva con un accordo di vari paesi europei che decidono di romperla sarà un processo caotico a qualche misura e può essere scatenato dalla fuoriuscita di uno o due paesi che siano rilevanti quindi uscita unilaterale scatenamento di questa crisi rottura dell'Unione Europea e riavvio subito di un processo di federazione europea che sia una vera federazione politica va bene grazie